Buon sabato, sabato 13 ottobre. E ben ritrovati con Infostudio. A Gizzeria, vorrei dire in tutta la Calabria, è il giorno del cordoglio. Le esequie di Stefania Signore, di 30 anni, e dei suoi figli, il piccolo Nicolò, che vedete in braccio a lei proprio, di due anni, il cui corpicino è stato ritrovato solo ieri nella zona di San Pietro Lamitino, dove la macchina in cui si trovavano Stefania Signore e i figli è stata travolta dall'acqua e dal fango, e del figlio Cristian, di 7 anni, le esequie, dicevo, si svolgono all'aperto nel piazzale della chiesa di Santa Caterina, nella frazione Mortilla. Questa decisione è stata presa perché si prevede un'affluenza enorme di persone, non solo, ovviamente, di Gizzeria e dei centri più vicini. Questa è la zona in cui ieri mattina i vigili del fuoco e la protezione civile hanno pietosamente ritrovato il cadavere del piccolo Nicolò, di due anni cercato per quasi otto giorni, vi ricordo che la tragedia si è consumata la sera del 4 ottobre scorso, la mattina del 5 venerdì della passata settimana vennero ritrovati i corpi di Stefania Signore e di Cristian, il figlio più grande. Il giorno del cordoglio, dicevo, del dolore per un'intera regione, alla mezza terme, chiaramente, è stato proclamato il lutto cittadino, ma tutta la regione piange queste tre vittime dell'ultima ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra terra. E' chiaramente un funerale, quello di oggi, e immaginiamo un'omedia da parte del vescovo di la mezza terme che la ufficierà, che indurrà alla riflessione su quanto poi spesso anche l'uomo contribuisca a causare molti dei danni che si verificano in occasione delle alluvioni, come peraltro ricordano più spesso i tecnici e soprattutto poi il capo dipartimento della protezione civile regionale. Più avanti nel telegiornale ci occuperemo proprio della campagna Io non rischio sulla sensibilizzazione dei cittadini riguardo ai rischi potenziali dovuti alle catastrofi naturali. Ma, ripetiamo, oggi è il giorno del lutto ed è il giorno in cui ci si stringe attorno ad un padre, perché poi ci sono tre vittime e si dimentica anzi quasi sempre la quarta, ovvero questo meccanico di gizzeria che ha perso la moglie e due figli piccolissimi e che ad essi deve sopravvivere e che è a tutti gli effetti la quarta vittima di questa tragedia. Questo è l'Alfa Romeo, un mito sulla quale viaggiavano Stefania Signore e i suoi figli. Scesi dalla macchina purtroppo fossero rimasti in auto, non lo sappiamo, probabilmente si sarebbero anche potuti salvare. Scesi dalla macchina, l'acqua e il fango hanno avuto il sopravvento. Il terzo giorno da quando è sparito Francesco Vangeli, un ragazzo di 23 anni, di Filandari, del quale non si hanno notizie da mercoledì scorso. Finora le ricerche si sono rivelate vane e sappiamo che la macchina di Vangeli è stata ritrovata bruciata nei pressi dello svincolo di Mileto, dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. L'ultima volta il ragazzo si era recato a partecipare ad una cena a San Giovanni di Mileto, non molto distante da dove vive, è un piccolo centro. Peraltro il ragazzo è descritto come una persona estremamente tranquilla, lavorava nel negozio di ferramenta della famiglia. Proprio ai familiari ed agli amici sono state chieste notizie circa le sue frequentazioni. Il dato della macchina bruciata fa propendere il fatto che non si tratti di un allontanamento volontario. Chiaramente c'è preoccupazione. Adesso i RIS dei carabinieri stanno esaminando la carcassa ormai distrutta dell'auto per giungere ad elementi che possano essere utili a fare chiarezza su quanto è accaduto. La polizia ha arrestato a Crotone un uomo di 46 anni che ha aggredito l'ex compagna colpendola con calci e pugni e lanciandole addosso anche alcuni oggetti, alcune suppelletti. Ad attirare i poliziotti sono state le urla della donna che provenivano dall'interno dell'abitazione posta al primo piano di un edificio dalla quale abitazione, da una finestra della cui abitazione questa donna si è lanciata in preda al panico quando evidentemente l'escalation di violenza del compagno è stata tale da farle ritenere di essere in pericolo di vita. Per fortuna non ha riportato danni gravi, comunque è stata soccorsa, affidata ai sanitari del 118, adesso si trova ricoverata in ospedale. Il compagno della donna, l'aggressore, è stato rintracciato dai poliziotti e adesso si trova in carcere. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 si è verificata questa mattina, poco dopo le 7, intorno alle 7.14 nel Vibonese. L'epicentro è stato localizzato dall'Istituto Nazionale di Geofisica tra i comuni di Fabrizia, Mongiana, Nardo di Pace e Serra San Bruno, è avvenuto a una profondità relativamente ampia, vale a dire quella di una quarantina di chilometri, nessun danno a persone ed a cose. Non tutti sanno che, anzi pochi sanno che noi non lo sapevamo, l'abbiamo appreso e per questo anche che fra l'altro ci realizziamo un servizio, una delle più grandi aziende europee, forse per fatturato la più grande azienda italiana, comunque stiamo parlando di una famiglia che è assai ben voluta, oltre che bene merita, ad Alba in provincia di Cuneo, già il fatto che vi abbiamo detto che si tratta di Alba, lo avrete capito, significa che stiamo parlando della famiglia Ferrero. La famiglia Ferrero, che delizia, diciamo così, gli italiani con alcuni dei suoi prodotti, molti dei quali contribuiscono alla crescita dei nostri bambini, preleva una materia prima assai importante anche nella nostra regione, si tratta delle nocciole. Vediamo di capirci di più col servizio di Francesca Travierso. 500 ettari coltivati a nocciole per fornire alla Ferrero la materia prima tutta italiana necessaria alla produzione di dolci tra i più famosi al mondo. È il progetto Nocciola Italia col quale la Ferrero ha intenzione di promuovere la corilicoltura di qualità a chiudere una filiera tutta italiana. Dal punto di vista pedoclimatico la Calabria ha tutte le caratteristiche che occorrono. L'azienda acquisterebbe ad un prezzo già concordato e in più supporterebbe i produttori fornendo loro le piantine e un sistema di consulenze. Il progetto nel dettaglio è stato illustrato in un convegno organizzato presso l'azienda agricola Torre di Mezzo di Castrovillari dalla CIA Agricoltori Italiani Calabria alla presenza di tutti i partner potenzialmente coinvolti nel progetto e della Regione Calabria. Sulle filiere noi come Regione Calabria ci stiamo puntando, anche abbiamo fatto una misura che è la misura 9, dove permettiamo anche alle misure giovani di poter costituirsi e quindi assistere nei primi anni di vita, quindi che è il momento clou. C'è infatti questa idea di chiudere la filiera? Io penso che oggi come c'è una filiera, ho visto ci stanno gli agricoltori, ci sta Ferrero, ci sta la Regione, ho visto che anche ci stanno le banche, quindi c'è quel partè, quindi quel tavolo dove si può fare veramente filiera. Una possibilità interessante ma da sfruttare con intelligenza, aggiunge il direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Giacomo Giovinazzo, nel quadro di una più generale opera di diversificazione delle colture alla quale gli agricoltori calabresi si devono dedicare, anche per evitare gli errori commessi in passato, concentrando le coltivazioni di intere zone su un unico prodotto. La Ferrero, la Nutella, i prodotti in generale sono dei prodotti globali, ma sono dei prodotti italiani, quindi bisogna sostanziarli con materia prima italiana, quindi credo che questo sia l'oggetto del fare impresa e di aprire e costruire una filiera di nocciole anche in Italia, ma soprattutto in Calabria. Dobbiamo dire che in Calabria ha un polo corilicolo, noi ce l'abbiamo, anche se ridotto nei numeri, circa 200 ettari, nella zona delle serre vibonesi, Torre Ruggero, Cardinale, quindi un percorso di costruzione di una filiera è stato fatto. Ora è evidente, noi ci troviamo in una zona come quella della Piana di Sibari, dove alcune colture sono andate in grave crisi, questo dovuto, se vogliamo, alle modifiche anche dei periodi produttivi, ma all'avvento di tante altre produzioni e soprattutto forse a delle errate scelte nel passato, ovvero concentrare tutte le produzioni di una Piana su un unico prodotto, possiamo pensare che queste sono le pesche e le nettarine di questa zona o possiamo pensare alle arance o all'olivicoltura della Piana di Gioia Tauro oppure altre realtà che non hanno diversificato. Io credo che nell'ambito della diversificazione la nocciola possa essere un elemento di interesse anche culturale. È evidente che bisogna fare conti e relazioni anche rispetto alle colture che andiamo a spiantare, rispetto ai prodotti che andiamo a mettere le varietà in un reddito praticamente complessivo dell'azienda. E continuiamo a parlare di agricoltura perché dopo 14 anni Pietro Bolinaro ha lasciato la presidenza di Coldiretti Calabria, gli subentra il presidente della provincia di Coldiretti Cosenza, cioè di Coldiretti Provinciali di Cosenza, verrà dire Tonino Aceto, 53 anni, che è uno dei più noti allevatori della Calabria, allevatori zootecnici, insieme al fratello possiede infatti un'azienda molto estesa, la superficie è anche investita in kiwi ed in vite da vino. Il cambio della guardia è stato ufficializzato nell'Assemblea regionale, Molinaro ha ovviamente ringraziato Coldiretti regionale e nazionale per l'opportunità offerta gli e anche assicurato il suo impegno in favore della Calabria nelle nuove sfide, probabile per lui un incarico a livello nazionale o forse anche un impegno in politica. Finora nessuna conferma o smentita in tal senso. Abbiamo detto, parlando all'inizio dei funerali oggi a Gizzeria delle tre vittime dell'ondata di maltempo della scorsa settimana, oggi e domani, quindi se vedete i punti informativi, gli stand, fermatevi pure, si tiene la campagna Io non rischio che è giunta all'ottava edizione. È una campagna che la protezione civile tiene in tutta Italia, infatti sono ben 300 le piazze interessate, 3500 i volontari impegnati, ma insieme a loro ci saranno rappresentanti delle istituzioni e della comunità scientifica per confrontarsi con i cittadini, per ascoltare le loro domande, per fornire loro le risposte più attese ed importanti. Anche se poi, anche laddove non vi sia questa campagna, perché vi ripeto, sono 300 piazze, potete andare sul sito della protezione civile o sul sito iononrischio.it per conoscere la piazza a voi più vicina, ma sui siti della protezione civile e sul sito iononrischio.it potrete anche apprendere cosa occorre sapere e quello che occorre fare prima e durante una catastrofe naturale, ovvero dopo un terremoto, un maremoto, un alluvione, perché questa campagna mira proprio a sensibilizzare i cittadini sui rischi che possono derivare dalle catastrofi naturali e sappiamo che il nostro paese con più del 90% dei comuni soggetto a qualche tipo di rischio è un territorio fragile, la Calabria è la regione più esposta al rischio idrogeologico e purtroppo sappiamo pure che le risorse per fare un intervento strutturale che metta davvero in sicurezza tutto il paese non ci sono e per questo dunque che i cittadini devono essere sempre più consapevoli dei rischi ai quali sono esposti, fermatevi pure non vi sarà difficile riconoscere il colore giallo particolare e attira, oltredutto dicevo se incontrate gli stand nelle vostre piazze fermatevi pure, ci sono anche dei gadget, dei piano illustrativi e gadget per coloro che aderiranno a questa iniziativa il cui spot vi mostriamo anche oggi. Io non rischio, buone pratiche di protezione civile. Affrontare un rischio naturale non è facile, ma tu puoi fare molto per ridurne gli effetti. Vieni a scoprire come nelle piazze della tua regione, dove i volontari di protezione civile ti aspettano con la campagna io non rischio. Scopri di più su iononrischio.it Un appuntamento per domani, vi ricordo che mercoledì abbiamo trasmesso in diretta al termine dell'edizione del telegiornale delle 13 e 50 la celebrazione della giornata nazionale della medicina interna cura della Simi, la Simi è la società italiana dei medici di medicina interna, nel cui presidente nazionale è un calabrese, il professor Perticone, docente ordinario anche dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Collegamenti proprio da Catanzaro, da Napoli, Palermo, Roma, Padova, Cuneo e Modena con alcuni dei più grandi specialisti dell'internisti, cioè della medicina interna italiani. Alle 17 e 45 domani sera sul 13 di Videocalabria potrete assistere nuovamente alla replica della trasmissione. E noi adesso parliamo invece di vino perché è la stagione, benché ancora l'autunno non punga proprio, anzi le temperature sono ancora abbastanza miti, ma comunque si sta per vendemmiare, si sta per procedere alla costruzione diciamo così, di uno delle voci più importanti del nostro bilancio agricolo e dunque del complessivo bilancio, diciamo così, della nostra regione. A Donnici, alle porte di Cosenza, collina insomma nota proprio per la particolare produzione di un vino che è estremamente rinnovato e non solo in Italia, a Donnici si tiene, ieri sera è stata inaugurata anche oggi e domani, la sagra dell'uva e del vino. Fino a domani a Donnici inferiore, frazione ad una manciata di chilometri da Cosenza, si tiene la 38esima edizione della sagra del vino e dell'uva che dal 2012 ha assunto la denominazione di sapori d'autunno. Donnici è nota non solo in Calabria per le sue cantine e per il pregiato vino che vi si produce e la manifestazione, iniziata ieri sera e che si concluderà come detto domani, punta ad ampliare le potenzialità del turismo enogastronomico nell'ambito della strategia di promozione del territorio. Sia ieri che oggi, fra l'altro, sono in programma visite guidate in autobus per visitare il borgo antico e passeggiare tra gli stand e l'amministrazione stessa incoraggia chi intende partecipare a non usare l'auto per utilizzare le navette. La festa dell'uva e del vino di Donnici è nata nel 1979 per celebrare la vendemmia, ma è presto cresciuto come evento di marketing per le aziende vitivinicole e per i tre vini che essi producono, vale a dire Magliocco, Malvasia e Gaglioppo. Le aziende presenti sono una quarantina, comprese alcune pugliesi e siciliane, più di quante parteciparono alla scorsa edizione. Il programma di questa 38esima edizione ricalca il format di un anno fa, sia pure con alcune novità, che riguardano soprattutto le iniziative collaterali, a partire dalla collaborazione col comune di Melpignano, il piccolo centro della provincia di Lecce, celebre per la notte della Taranta. Per l'inaugurazione, ieri sera, si è svolta un'esibizione dei briganti a cavallo, mentre stasera e domani toccherà ad artisti di strada e verranno organizzati DJ-set. Rinnovata anche la collaborazione con l'Istituto Agrario ed Alberghiero, tesa alla valorizzazione della filiera agroalimentare. C'è pure un'iniziativa sociale a cura di un'azienda vinicola che ha deciso di devolvere parte del ricavato della vendita di un vino per sostenere l'associazione Una mano sul cuore, che aiuta finanziariamente le donne colpite da tumori e che non hanno mezzi sufficienti per affrontare il percorso terapico. Possiamo dire una grande festa non solo per il Borgo di Donnici, ma per la città tutta, che ancora una volta è in grado di offrire un pacchetto di promozione, di valorizzazione delle eccellenze. Qui all'interno del Borgo è un vero e proprio villaggio, dove è possibile gustare tanti prodotti enogastronomici, ma nello stesso tempo avere la possibilità di ascoltare della buona musica. E per i bambini, i laboratori, beh che dire, una tre giorni di festa che certamente sapranno non solo accogliere, ma soprattutto suscitare grandi emozioni e grandi sensazioni a tutti i visitatori. Tra le novità di quest'anno, un'iniziativa legata al vino e al sociale, una bottiglia di vino legata alle donne, alle donne che in qualche modo superano quotidianamente delle difficoltà e il cui intero ricavato sarà devoluto in beneficenza. Vi ricordo infine il nostro sito ufficiale videocalabria.tv e il nostro sito invece di notizie, allnews, tgcal24.it. Ricordiamo fra l'altro la replica domani pomeriggio, ancora lo rifaccio alle 17.45 della giornata nazionale della medicina interna e poi ci occupiamo anche di questo post su Facebook contro le forze dell'ordine di un candidato alle elezioni comunali di Nicotera che il candidato sindaco di quella parte politica ha preferito escludere. E con questo abbiamo terminato. Io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito. Buon sabato col telegiornale. Torniamo domani.